120 minuti di puro spettacolo offerto agli elevi della scuola di ballo Dance School Sicilia diretta da Carmelo Foresti e Angelica Italiano in piazza Principe Romeo a Falcone. Un viaggio tra i vari generi di ballo, dalla danza classica agli standard, dall'hip hop all'atin con ballerini di tutte le età che hanno divertito il numeroso pubblico presente. Siamo partiti alla grande, con questa stagione l'abbiamo chiusa alla grande e penso che questa sera lo dimostrano le esibizioni fatte e ripartiremo ancora di più alla grande da settembre. Un livello che cresce giorno dopo giorno. Sì, è un livello che cresce sempre di più, miglioriamo giorno dopo giorno, ma non è fortuna, è solamente dedizione e sacrificio da parte dei nostri ragazzi, nostra e dei loro genitori che li accompagnano durante questo percorso. Sul palco tanti giovani talenti che nell'ultima stagione hanno ottenuto grandi risultati, come Antonino Emanuela che hanno conquistato il titolo di campioni italiane assoluti. Quanto lavoro c'è dietro un grande successo del genere? Molto, duro lavoro, costanza e provare a concentrarsi solo sulla danza, diciamo che oltre al livello scolastico è molto difficile, però se lo fai col cuore comunque è una cosa bellissima. Tanto lavoro, tanti sacrifici, però oltre a questo c'è tantissima determinazione e dedizione a questo percorso, chiamato danza, ma soprattutto come dicevo anche oggi a fine serata, chiamato vita.